Good morning a tutti voi e buona giornata. Continuiamo con quei due vecchietti, Simeone e Anna, questa volta Anna. Al capitolo secondo di Luca, versetto 36. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Dopo aver ripreso la figura di Simeone, che fa questo magnifico canto, arriva questa donna della tribù di Asser. La tribù di Asser era una tribù piccolina, al nord della Terra Santa, che pian piano si era un po' seduta sui comportamenti un po' pagani. È una tribù che poi sparisce. E Anna rappresenta un po' il resto fedele di una tribù infedele. Rimane fedele Anna giorno e notte. Non va mai via dal tempio, dice il Vangelo, perché lì c'è la casa del suo sposo, che lei continua ad attendere. È bella questa immagine, insieme a quella di Simeone, di questa donna anziana, vedova, che se ne va nel tempio e che attende, e che al momento opportuno sa lodare Dio. Simeone ha fatto, scusate, ha fatto la profezia, forse lei arriva lì, non sa neanche bene il perché, ma loda Dio. E anche le nostre chiese sono piene di tante donne anziane, spesso. Abbiamo bisogno del loro sguardo, della loro preghiera, del loro esserci, perché rappresentano spesso il volto quotidiano che magari noi guardiamo con un po' di supponenza certe volte. Invece il volto quotidiano di una chiesa che prega, che prega per amare, per amare di più. Che belli questi due che ci insegnano a stupirci a qualsiasi età, perché a qualsiasi età possiamo riconoscere la presenza di Dio. Ed è curioso, molto bello, che ce lo insegnano in questi giorni i due anziani. Guardiamo i nostri anziani e sappiamo riconoscere che talvolta hanno uno sguardo luminoso, tanto, nonostante magari tanti anni sulle spalle. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, direi soprattutto il gruppo dei giovanissimi che sono venuti per darsi da fare. Il giorno prima abbiamo fatto i pupazzi di neve e ieri invece abbiamo lavorato, dividendoci in due gruppi, uno nel bazar dove ci sono i vestiti per i poveri, l'altro nella nostra officina che è molto disordinata. È stato bello vederli, è stato bello vedere la loro buona volontà di mettersi in gioco. Ale, buona giornata a voi!